Come fare un circuito elettrico all'interno di Revit? Te lo spiego in questo video tutorial. Questo esercizio è composto di due passaggi. Il primo passaggio è quello dell'inserimento del componente prese all'interno del locale admin, con conseguente creazione di circuiti. Il secondo passaggio, come puoi vedere dall'interfaccia, è quello della creazione di un filtro grafico associato al nome del circuito, dove le linee verranno sovrascritte di colore verde con un pattern tratteggiato. Vediamo adesso insieme lo svolgimento dell'esercizio. Primo passaggio, inserimento delle prese all'interno della sala admin. Quindi dal comando Systems, Device, Electrical Feature, prendo la famiglia presa doppia tipo standard e le inserisco in questo modo. Fatto questo, le seleziono, creo il circuito, cliccando su Power e associandole al quadro. A questo punto converto il passaggio e l'associazione delle prese al quadro elettrico in ArcWire. Secondo passaggio, azione del filtro grafico. All'interno delle properties della vista di pianta, entro nel View Template piano elettrico, clicco su VG Override Filter e aggiungo un altro filtro. Clicco su Edit New, parto dalla duplicazione di quello già presente, quindi Duplicate, lo rinomino, circuito prese admin, controllo che sia già associato correttamente alla categoria Wire e cambio la regola. Apro il menu a tendina e gli dico che deve essere associato al circuito che si chiama Presa Admin 126. A questo punto applico OK e lo aggiungo. Add, lo seleziono, clicco su OK, sovrascrivo le linee graficamente con un pattern tratteggiato e un colore verde. applico, applico di nuovo il View Template e il gioco è fatto. Spero che questo esercizio ti sia stato d'aiuto. Se desideri poter vedere altre cose riguardo altri tutorial riguardo a Revit, non esitare a scrivere un commento sotto questo video e a mettere un like al canale. Ci vediamo la settimana prossima per un nuovo video. Ciao!